Mi chiamo Ivan Martuscelli, sono il titolare della IDRA, un'azienda che da più di 20 anni aiuta privati, ristoratori, scuole ed aziende a liberarsi del problema delle bottiglie dell'acqua in plastica. Guardate le nostre recensioni su Google e su Facebook e noterete con quanto amore, con quanta dedizione noi ci dedichiamo a questa attività e di quanto realmente stiamo cercando di fare qualcosa, di salutare per il nostro pianeta. Qual è la vera peculiarità di IDRA? Perché i clienti sono così contenti di noi? Innanzitutto la qualità e l'eccellenza dei prodotti che noi cerchiamo di dare ai nostri clienti, ascoltando le esigenze. Tendenzialmente noi non diamo mai due impianti uguali, ogni famiglia ha bisogno del suo prodotto, la sua cucina, la sua realtà familiare. Ascoltiamo le richieste e cerchiamo di accontentare il cliente lungo il suo percorso in maniera che non debba più andarsi a comprare queste bottiglie, ma comodamente da casa sua possa bere tutta l'acqua che vuole. Dopodiché la vera peculiarità di IDRA è il suo servizio post vendita. E noi ci capitano tantissimi clienti che comprano da un'azienda trovata su internet, che ha una sede legale da qualche parte in Italia, che gli ha fatto un super sconto omaggio, che ti trovi un tecnico, un idraulico tu, ti monti quello che ti mandano e poi per l'assistenza non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. No, noi abbiamo un negozio, abbiamo 20 anni di clienti che possono dire che anno dopo anno noi ci siamo. Se hai bisogno, una necessità, chiama, ascolteremo quello di cui hai bisogno e ti manderemo un tecnico che ti risolve il problema, qualcuno a cui puoi affidarti. E questo è quello che rende IDRA un'eccellenza di Torino.